Ecco a voi il vostro Andrea Di Pre. È un grande piacere gentili telespettatori da Andrea Di Pre che vi saluta e vi invita e vi esorta ad iscrivervi al canale di Fabius Art. Il massimo della chiarezza che corrisponde al massimo dell'ambiguità, l'imprevisto, la vita, l'esistenza per un fine contro la fine. Andrea Di Pre vi invita ad iscrivervi al canale di Fabius Art e al canale della sua squadra. Complimenti. Grazie.